Ebbene sì, come avete letto dal titolo, chiuderò il canale E benvenuti a tutti in questo video Come vi ho appena anticipato nella piccola intro di questo video Chiuderò il canale E ovviamente, dico per fortuna, è solo un titolo clickbait Per approfittare nel ringraziare tutte le persone che si sono iscritte al canale fino adesso Tutte le persone che hanno creduto in me Già da quando avevo pochissimi iscritti e pochissime visualizzazioni all'interno del mio canale A tutte le persone che mi hanno iscritto in privato A tutti i commenti che ho ricevuto sotto a tutti i video Approfitto proprio adesso nel ringraziarvi tutti Perché mi avete aiutato nell'andare avanti in questo piccolo mio progetto E oggi sono proprio qua per anticiparvi delle cose che porterò avanti in questo 2022 E ovviamente mi farebbe molto piacere che mi dite la vostra opinione qui sotto nei commenti Per sapere se sono delle belle idee oppure perdo solo tempo Prima di andare avanti e dirvi questi format, queste idee che mi sono venuti Per portare avanti questo canale Per farlo rinascere, diciamo perché siamo arrivati a un certo punto Che secondo me stava diventando troppo monotono E approfitto anche a ringraziare tutte le persone che si sono iscritte nel mio canale Telegram Ciclismo sconti, se non l'avete ancora fatto vi consiglio di andarci a dare un'occhiata Ovviamente tutto gratuito trovate qui sotto il link in descrizione Perché da quando ho iniziato a fare i video l'ho praticamente fatto sempre gratis Quindi non ho mai ricevuto neanche un euro dalle sponsorizzate YouTube E dai prodotti che andavo a vendere In questi ultimi mesi invece sono riuscito a sbloccare sia la monetizzazione di YouTube Dove posso assicurarvi che comunque non si guadagna niente E sono riuscito a ricavare qualcosina dai link affiliati che trovate qui sotto in descrizione nei miei video E che trovate nel mio canale Telegram Tutto questo mi ha consentito di continuare in questa avventura E per tutte le persone che andranno ad acquistare o dai canali Telegram O dai miei link in descrizione Ci tengo a ringraziarvi perché per voi non cambia niente le mie acquistiche andate a fare Ma una piccola percentuale andrà a me E questo contribuirà a portare avanti il mio canale E detto questo che ci tenevo a dirlo Perché nei miei video non vado mai nello specifico a parlare anche di questi argomenti Vi anticipo solo innanzitutto la prima novità che ci sarà in questo 2022 Sarà il mio show che è una cosa molto simile allo show che fa GCN Italia una volta a settimana Le rubriche saranno anche simili ovvero ci sarà l'argomento principale della settimana Ci sarà ovviamente la rubrica dove si andrà a parlare delle gare Gare sia su strada che di mountain bike L'obiettivo è proprio quello di andare a rivedere quello che è successo nella settimana passata E cosa ci sarà nella settimana a seguire Ogni settimana vorrei portarvi il prodotto della settimana In modo tale che ogni settimana vedete un prodotto accattivante da comprare E altre rubricche che non vi anticipo Ma vedrete sicuramente quando ci sarà il primo show E se avete altre idee commentate pure qui sotto nei commenti E li leggerò molto volentieri e ovviamente prenderò in considerazione quello che avete scritto Altra cosa che mi piacerebbe fare in questa stagione è ritornare a gareggiare Sono già 5 anni che non gareggio più L'ultimo anno che ho fatto su strada è stato nella categoria juniors addirittura E ora vorrei ritornare a gareggiare Mi piacerebbe fare più mountain bike E chissà magari in questo inverno anche ciclocross Ovviamente nel mondo amatoriale non ho ancora cercato neanche guardato una squadra Ma se qualcuno mi vorrebbe all'interno del suo team Sa che mi può contattare tranquillamente in privato E sarò lieto di rispondervi E arrivati a questo punto del video Spero che tutto quello che vi ho detto vi sia piaciuto Se avete qualche spunto da darmi Oppure se volete semplicemente dire la vostra Commentate pure qui sotto nei commenti Che li leggo volentieri tutti E se non l'avete ancora fatto vi consiglio di Iscrivervi al canale e accendere la campanellina Per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video A voi non costa niente Ma è un piccolo aiuto che riuscite a darmi Per continuare a portare avanti contenuti all'interno di questo canale E se lo fate siete dei grandi E io vi saluto e ci vediamo alla prossima Ciao! 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 Grazie a tutti